Musica 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 Comunque cambia l'argomento ma? Sono da analizzare gli argomenti che possiamo trattarsi Perché te la fastidio? Dimmi che prossimo Sì? Chi è? Ciao, sono Simone. Simone chi? Manuel, ho il compito di latino che ci darà domani in Lombardia, poi ti spiego come ho fatto a recuperarlo. Se ti va stasera vieni da me a dormire e ci scarichiamo la traduzione, eh? Scusa, se mi ammazzano ti dispiace a te? Certo che mi dispiace, io... pure parecchio. Che cazzo fai se non sei scemo? Io non sono gay, non mi piacciono i maschi, non c'ho niente contro di loro, però non lo sono, va bene? Non ne penso quelle cose che ti ho detto. Anch'io sono stato un po'. Dovrei dire tutto ricco. Un po'? Un po'? Volontà allargare, eh? Che fai? Torni? Sono divertente, però finisce là. Divertente? Che vuol dire divertente? No, gioca e palla un cazzo, ok? No, gioca e palla un cazzo.